Ciao a tutti, so già che la maggior parte delle persone che vedranno questo video non sono miei iscritti, quindi non mi conoscono e ha senso un attimo che mi presenti. Io sono Giacomo, ho fatto un percorso in ambito biologico, poi in ambito di biologia evoluzionistica e adesso, da circa un anno, più di un anno, parlo di scienza, biologia e evoluzione qui su YouTube. Ho già fatto tantissimi video, saprete potete recuperarli su questo canale e oggi sono qua perché voglio provare a trovare le prove delle ipotesi di intervento alieno raccontate da Mauro Biglino e Pietro Buffa. Per chi non sapesse a cosa mi riferisco, necessita ovviamente un'introduzione. Negli ultimi mesi sto lavorando a un progetto di ricerca che ha l'ambizione di trovare e analizzare tutte le affermazioni in ambito evoluzionistico su YouTube Italia. Ed è così che ho conosciuto Mauro Biglino, nel senso che cercando tutti i video possibili mi sono imbattuto nelle sue conferenze. Mauro Biglino è un ricercatore traduttore in ambito di lingue, ebraico principalmente, ma riesce a leggere e tradurre anche l'aramaico, che cercando nella Bibbia ha trovato varie informazioni, in particolare ha trovato prove di un intervento alieno sugli esseri umani. Questa è un po' la cosa principale. Giusto per chiarire, io ho visto tutti i video, tutte le conferenze di Mauro Biglino e Pietro Buffa. Questo perché dovevo letteralmente selezionare quali video contenessero affermazioni in ambito evoluzionistico. Si parla di, per capirci, più di 250 video in totale, e di questi più della metà contengono affermazioni in tipo evoluzionistico. Quindi io, non potete dire che non conosca Mauro Biglino, ho visto letteralmente tutto. Non solo ho anche letto i libri di Pietro Buffa, che parlano proprio delle prove scientifiche che dimostrerebbero proprio l'intervento di alieni nell'evoluzione umana. Faccio una premessa. Io non sono credente, sono ateo da anni, e quello che è scritto nella Bibbia personalmente per me non è rilevante. Non lo è più di quello che c'è scritto in qualsiasi altro libro. So che è culturalmente molto importante nel nostro paese, lo è in altri paesi del mondo, ma di per sé non per me quello che è scritto nella Bibbia non lo userei come una prova di una qualche evidenza di per sé. Dopodiché, se però quello ci dà delle indicazioni scientifiche di eventi avvenuti, e quegli eventi li riusciamo a dimostrare, beh, allora è l'inizio di un processo di scoperta scientifica che possiamo fare. Ed è un po' questo il mio approccio che voglio utilizzare. Nel senso, quello che è scritto nella Bibbia, eventuali... l'esistenza di Dio, o l'eventuale esistenza di alieni che hanno fatto varie cose nell'evoluzione umana, entrambe le cose per me non hanno alcun valore. Ma se ci sono delle prove scientifiche forti per una o per l'altra cosa, beh, allora proviamo a guardarle. Ed è quello che un po' ha fatto anche Pietro Buffa, che è un ex biologo molecolare, che ha dato una mano a cercare delle prove. Quindi, contestualizziamo l'intero impianto, l'intera ipotesi avanzata da biglino e buffa. Nell'universo ci sono più di 400.000 specie alieni e umanoidi, che sono venute alcune più volte sulla Terra. In particolare una specie, gli Elohim, sono intervenuti sugli esseri umani, o meglio, sugli antenati degli esseri umani, li hanno modificati geneticamente a più riprese, in più step evolutivi, per far diventare delle specie di scimmie, i nostri antenati scimmieschi, in gli esseri umani, in vere e proprie, che immaginiamo adesso. L'obiettivo da quello che viene ricostruito è per renderli degli schiavi, probabilmente per l'estrazione di oro, o per altri motivi. Secondo Buffa, questi alieni sono intervenuti in più punti dell'evoluzione umana, in particolare tra Homo Abilis e Homo Erectus, durante in Homo Alderbergensis, e anche probabilmente poche decine di migliaia di anni fa, appunto quando, prima che l'Homo Sapiens uscisse fuori dall'Africa. Nella Bibbia sarebbero riassunti e ci sarebbero le informazioni di questi eventi, in particolare dell'ultimo. Anche se ovviamente qui c'è già un piccolo problema, cioè la Bibbia narra gli eventi avvenuti massimo 3-4 mila anni fa, ovviamente qui staremo parlando di 30, 40, 50, 60 mila anni fa, forse anche prima, ovviamente si può immaginare che comunque l'informazione sia stata mantenuta e quindi poi riportata. Però ovviamente le argomentazioni per sostenere questa cosa sono varie e vengono ampiamente utilizzate da Bibline Buffa nelle varie conferenze e nei libri. Innanzitutto la prima prova è il fatto che noi esseri umani abbiamo delle particolarità genetiche. Per esempio noi abbiamo avuto la fusione di due cromosomi, infatti abbiamo una copia di cromosomi in meno rispetto alle altre specie di scimmie a noi imparentate. C'è poi il fatto che la nostra specie è molto particolare perché effettivamente sembra una specie non adatta all'ambiente. È come se sia stata messa qui dopo, ok? E' quasi strano che io come individuo possa essermi adattato secondo i principi evolutivi perché non ho nessun vantaggio, non abbiamo un sacco di robe strane, non abbiamo artigli che ci permettono di sopravvivere, non abbiamo nulla rispetto agli altri animali. Siamo degli animali abbastanza sfigati e una spiegazione potrebbe essere proprio il fatto che siamo stati modificati successivamente e messi in un posto già però preparato per noi. Perché poi l'altra tesi che viene ampiamente portata è il fatto che moltissimi degli animali, delle piante intorno a noi sono stati anch'essi modificati e quindi ci sarebbero tracce di modificazioni genetiche nel frumento, in molti animali che ci assomigliano e no, non che ci assomigliano, ma che vivono con noi e di cui noi ci cibiamo. Tutte queste argomentazioni sono abbastanza coerenti tanto che effettivamente, e questa è una cosa interessantissima, hanno preso tantissime persone. In questo momento in Italia ci sono stimo, quasi mezzo milione di persone che segue e probabilmente sostiene anche le tesi di Biglino e Buffa, ma capita anche molto spesso sotto i miei video che le persone mi dicano ma guarda che ci sono varie prove di interventi alieni sugli esseri umani. Ho deciso così di raccogliere in un insieme di ipotesi tutte da controllare insieme. Quindi adesso vi dico uno per uno tutte le varie ipotesi se effettivamente suffragano le ipotesi Biglino e Buffa. Partiamo proprio dall'ipotesi della traslocazione robersoniana che è la più bella. Noi, Homo sapiens, abbiamo due cromosomi in meno rispetto alle altre scimmie. Tutte le altre scimmie o meglio tutte le altre scimmie imparentate a noi. Questa cosa è particolare. Effettivamente c'è stato un evento che ha fuso due cromosomi, in particolare i cromosomi che corrispondevano al cromosoma 13 e 14 degli scimpanzè per farlo diventare il nostro, mi pare, secondo cromosoma. Questo è un evento rarissimo che però è avvenuto e ci sta che un intervento alieno possa averlo aiutato. Ho cercato in letteratura se ci fosse qualcosa su questo ambito e ho scoperto un sacco di cose interessanti. Innanzitutto che ci sono tantissime specie che hanno avuto questo tipo di modificazioni. Per esempio, il cavallo rispetto all'asino, meglio, l'asino rispetto al cavallo anche lui ha due cromosomi in meno. Quindi anche qua potremmo aver avuto un eventuale intervento alieno per fondere i due cromosomi. La volpe rossa, la nostra normale volpe rossa, ha due cromosomi, una coppia di cromosomi in meno rispetto alla volpe del Tibet. Oppure se noi guardiamo topi e ratti, anche i topi hanno due cromosomi in meno rispetto ai ratti. Non solo, ho trovato in letteratura centinaia di esempi di questo tipo in tantissimi animali, sia animali da cortire che animali che si trovano in natura. È un fatto che è avvenuto, avviene, è avvenuto più volte. Anzi, se ci pensate un attimo, tutti i mammiferi sono tra loro imparentati. E il fatto che tutti quanti a gruppi abbiamo numeri diversi di cromosomi è interessante, significa che più volte questo tipo di eventi o di duplicazione o di traslocazione robertsoniana che porta alla fusione di due cromosomi sia avvenuta. È un evento che, appunto, è raro, ma può avvenire. Ora, possiamo immaginare che per ogni evento ci sia stato un intervento alieno. Quindi che gli alieni siano venuti e sono intervenuti sui rati, sui topi, sui cavalli, gli asini, sulla volpe rossa e la volpe tibetana, oppure molto semplicemente possiamo pensare che sia un evento raro, ma che nei tempi evolutivi possa avvenire. che è un po', in questo caso, vi dico in questo caso, quello che penso io. Probabilmente la nostra specie è avvenuto in un evento di traslocazione casuale come quello che potrebbe essere avvenuto nella volpe che ci ha portato alla fusione di due cromosomi. In più, in letteratura, vi lascio in descrizione questa cosa e se vi iscrivete al canale ve le racconto in uno dei prossimi video perché è una storia bellissima, abbiamo scoperto che c'è un uomo che ha avuto una traslocazione robertsoniana, è vivo in questo momento in Cina, o meglio, suo nonno ha avuto una traslocazione robertsoniana che ha fuso due cromosomi e in questo momento ha 22 coppie rispetto alle nostre 23 coppie. Lui è vivo, è sano, è un evento rarissimo ma è un evento che pur essendo molto raro è accaduto. Non solo, lui teoricamente se trova degli altri individui come lui può formare una nuova specie e quindi potrebbe fare quello che è successo a un certo punto della nostra storia evolutiva con i nostri antenati e voi direte e questa è un'ottima argomentazione che più di qualcuno usa è però è rarissimo che una persona possa trovare un'altra persona con 44 cromosomi ed è vero a meno che noi non pensiamo che possano avvenire dei rapporti incestuosi cosa che nei processi evolutivi si sa avviene nel senso che spesso e volentieri come nella nostra specie e in molte specie in cui ci siano gruppi piccoli capita di accoppiarsi anche con cugini a volte anche sorelle a volte anche i genitori e quindi banalmente se quest'uomo si accoppiasse con la madre con la sorella e facesse dei figli beh lui potrebbe tranquillamente generare delle persone con 44 cromosomi un'altra specie praticamente perché sarebbe incompatibile come lo sono per esempio gli asini e i cavalli è un evento che può succedere e anzi succede succede talmente tanto è un evento raro ma i tempi dell'evoluzione sono talmente grandi che è successo probabilmente tantissime volte quindi almeno in questo caso purtroppo non mi sento di usare di dire che questa argomentazione dei cromosomi possa essere adeguata per spiegare la storia evolutiva o un eventuale intervento alieno in Homo sapiens potrebbe esserci stato questo intervento alieno ma non abbiamo nessun motivo per pensarlo anzi la cosa più diciamo in questo caso sensata è pensare che è successo un normale evento come è successo per tantissime altre specie animali o come è successo per esempio con l'uomo cinese in questo caso però vi ripeto a questo video ne riparliamo magari fra qualche settimana un esempio molto simile che si collega è tutta la questione delle piante nel senso che Mauro Biglino e Pietro Buffa raccontano spesso questo tipo di modificazioni anche nelle piante nel frumento nella patata con però un'eccezione mentre effettivamente le modificazioni di questo tipo negli animali sono eventi rare quindi è strano effettivamente che siano avvenuti ma sono capitati nelle piante invece sono molto meno rare nel senso che il caso del frumento è emblematico l'ha spiegato benissimo Dario Bessanini vi lascio in descrizione il video in cui egli stesso ha risposto a un video di Biglino c'è un concetto difficile nelle piante eventi di duplicazione fusione di cromosomi sono molto 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 più frequenti di quello che si possa immaginare quindi per esempio alcuni eventi di ibridazione o di fusione molto rari che sono avvenuti nel frumento durante gli ultimi 180 mila anni sono in realtà eventi che capitano le piante capitano con una certa frequenza sono rari certo ma capitano se noi abbiamo tantissimi individui e tempi enormi vi faccio un esempio particolare la duplicazione del genoma intero quindi la duplicazione di tutti i cromosomi che è un evento rarissimo che è avvenuto varie volte in alcune specie che noi mangiamo per esempio il frumento in realtà è un evento rarissimo di per sé come evento ma nelle specie succede tantissimo metà delle felci metà delle specie di felci esistono perché hanno avuto una duplicazione del genoma completo questo perché nelle piante questa cosa succede quindi anche questa io la userai troppo come argomentazione a favore di un'eventuale scoperta un'eventuale ipotesi di intervento alieno sulle piante vediamo altri esempi che magari sono più interessanti o più utili nel nostro caso nel 2009 è stato sequenziato il DNA dei Neandertal l'anno dopo è stato scoperto grazie a dei profondi meccanismi bioinformatici avendo il genoma intero di Homo sapiens e il genoma intero di Neandertal che tutti gli individui fuori dall'Africa hanno delle tracce di genoma di Neandertal all'interno questo perché probabilmente tra 60 e 40 mila anni fa sono avvenuti degli eventi uno o più eventi di ibridazione probabilmente in Medio Oriente che ha fatto in modo che dei geni di Neandertal entrassero all'interno del genoma di Sapiens anzi ormai noi sappiamo anche quali geni più di un centinaio sono stati selezionati positivamente e tutto questo perché noi abbiamo degli ottimi strumenti bioinformatici di sequenziamento bioinformatici per capire varie cose all'interno del nostro genoma questo tipo di strumenti vengono utilizzati ogni giorno da tantissime persone tantissimi giovani ricercatori io ne conosco anche parecchi ci ho fatto anche dei video vi lascio in descrizione se avete voglia di dare un'occhiata e con questo noi abbiamo ricostruito una buona fetta dell'evoluzione umana anzi non solo l'evoluzione umana ma anche parentele spostamenti anche e anche eventualmente biforcazioni oppure eventi di ibridazione questo per esempio è uno schema che mi piace sempre molto mostrare per far vedere quanto è complessa tutta la storia questo schema funziona se noi diamo per scontato che non ci siano non ci sia nulla di geneticamente di modifiche genetiche dirompenti che abbiano cambiato in modo grosso i processi evolutivi perché se ci fosse stato all'interno di questa tabella qualcosa di davvero molto dirompente come una grande modificazione genetica come quella che noi per esempio potremmo fare su certi su certe piante o su certi animali noi vedremo qualcosa di molto molto più diverso vedremo degli rami molto più ampi e invece questo come se tipo immaginatevi il ramo degli africani a un certo punto si dividesse moltissimo dai non africani se noi immaginiamo un intervento alieno anche soltanto poco prima dell'uscita dall'Africa per non parlare poi del fatto che se voi guardate bene questo grande albero o meglio questa grande rete quasi quasi è più difficile immaginare vari interventi alieni come li immagina Pietro Buffa e questo forse è un po' lampante soprattutto se si leggono i suoi libri e li ho letti perché un po' l'idea che secondo me è un po' erronea all'interno del percorso di ragionamento che immagina appunto dei modificazioni genetiche per l'evoluzione umana è il fatto che probabilmente c'è un'idea un po' stereotipata dell'evoluzione umana un po' in modo lineare un po' vecchia quella che si aveva anni fa in cui alcune specie trasformavano in altre molto lentamente quando in realtà ormai l'evoluzione umana che è andata avanti anche grazie e soprattutto alla genomica ha ricostruito in modo molto diverso ad alberi che si sono ampiamente differenziati ecco in quest'albero è davvero difficile capire dove potrebbero essere stati degli interventi alieni e soprattutto qui c'è un problema qui c'è un problema che noi non abbiamo tracce noi vedremmo proprio geneticamente se ci fossero state delle grosse tracce io ho vari amici che fanno studiano sono antropologi molecolari e i loro calcoli i loro modelli non verrebbero fuori se ci fossero state delle modificazioni genetiche e questo questo è un altro problema cioè questo per me è il problema più grande delle ipotesi di modificazioni genetiche da parte degli alieni che se ci fossero davvero stati ci sarebbe ci sarebbe un problema l'albero di Homo sapiens sia confrontato l'albero con le altre specie con le altre specie animali soprattutto con le altre scimmie sia all'interno stesso quindi come sono in relazione tra loro le varie popolazioni umane e le altre specie umane vedi anche i Neandertal non tornerebbe ci sarebbe qualcosa che non va e invece è molto coerente si spiega senza problemi semplicemente accettando che popolazioni o specie umane diverse vivendo in aree diverse si siano diversificate geneticamente e poi si siano eventualmente rimescolati in certi eventi in questo schema in questa spiegazione della realtà non ci sono spazi per modificazioni dirompenti modificazioni genetiche che possono aver trasformato non c'è motivo di pensare che siano avvenute dopodiché se voi volete credere a questa cosa va benissimo nel senso è molto bello pensare che a un certo punto sia arrivato una forma di vita aliena e che abbia modificato il nostro genoma ma in questo momento non abbiamo nessun motivo per credere a questa cosa dal punto di vista genetico magari ci sono altri motivi per esempio una cosa che funziona molto anche comunicativamente parlando è il fatto che effettivamente viene presentato come se noi Homo sapiens fossimo degli esseri umani degli esseri degli animali molto particolari animali che effettivamente sembrano fuori dal loro habitat noi facciamo delle cose che per cui non sembriamo essere adatti e questa è una cosa super interessante però questa cosa è ampiamente discussa in ambito di biologia in ambito di evoluzione e si parla spesso di evoluzione culturale e questo è un aspetto fondamentale Homo sapiens a un certo punto probabilmente già 200 300 mila anni fa ma poi sempre di più implementato dentro ai propri processi evolutivi anche dei processi culturali a un certo punto non era importante soltanto come il tuo corpo si adattava l'ambiente ma anche come si adattava il tuo comportamento e quindi il fatto di insegnarsi via via a farsi di vestiti beh ti staccava ti scollegava dall'ambiente in cui vivevi perché potevi tranquillamente spostarti sempre più a nord in un ambiente che nudo non avrebbe avuto nessun non saresti neanche potuto essere vivo ma con delle giacche con delle giacche con dei vestiti che via via diventavano sempre più complessi perché l'evoluzione culturale aumentava vabbè ti permettevano di vivere sempre più in modo sempre più particolare non siamo gli unici animali che hanno questo tipo di modificazioni culturali che gli permettono di vivere in posti che altrimenti non potrebbero vivere so che se vi è questa cosa può sembrare strana ma ci sono delle specie che hanno adottato delle strategie che si sono anche insegnati che si insegnano che gli permette di ampliare molto il loro areale un esempio tipico sono le orche le orche sono una specie in cui il tipo di caccia in che si insegnano o il tipo di strategie adottate ha ampliato moltissimo l'areale oppure anche i diversi accessi a diverse risorse i castori sono un altro esempio sono degli animali che modificano l'ambiente intorno a sé e che non sarebbero davvero adatti all'ambiente in cui vivono se loro non l'hanno già prima modificato e quindi loro a mano a mano che si espostano modificano l'ambiente per renderlo più adatto a loro stessi come facciamo noi costruendo le case o vestendoci o come fanno le orche adattandosi a tecniche diverse di caccia quindi anche questa purtroppo non è un'argomentazione che funziona davvero che anche qua però qua stiamo già parlando di un'argomentazione che è molto più antica perché qua c'è un problema Biglino in molte sue conferenze inizia a dire a usare delle argomentazioni contro la teoria dell'evoluzione o meglio dicendo la teoria dell'evoluzione fino a un certo punto va bene ma poi per gli esseri umani non si spiega più usando purtroppo delle argomentazioni che sono state già spiegate che sono erronee da decenni e decenni purtroppo di studio in quest'ambito un altro esempio che viene spesso portato è il fatto che Wallace uno dei due padri della teoria dell'evoluzione insieme a Darwin a Darwin disse verso la fine della sua vita beh ma noi della teoria dell'evoluzione tutto molto bello ma non si spiega la nostra specie umana ok e questa è una cosa verissima uno dei padri dell'evoluzione disse questa cosa qua ma non è un problema nel senso che sono passati 150 anni dire che uno dei due padri che 150 anni fa disse una cosa alla teoria dell'evoluzione è irrisorio ci sono centinaia migliaia di ricercatori che sono andati avanti e che hanno studiato ampiamente l'evoluzione umana e hanno mostrato che con la teoria dell'evoluzione la storia umana si spiega molto meglio che in qualsiasi altro modo compreso eventuali interventi alieni se non ci credete vi consiglio di andare a vedere vi metto in descrizione dei video che ho fatto per esempio in cui viene ricostruita qual è la storia degli europei li vedrete popolazioni che si sono spostate che si sono fuse tra loro da varie parti del mondo ok bene in quell'ottica là se noi iniziamo a ragionare così cioè grandi popolazioni che si spostano da varie parti e alcuni hanno dei tratti genetici diversi che poi si mischiano e così via beh è molto più difficile immaginare dei interventi alieni perché in quel punto l'intervento alieno dove è stato fatto ovunque contemporaneamente in un solo posto e poi si è diffuso diventa molto più problematico se noi abbiamo un'idea un po' stereotipata della teoria dell'evoluzione quindi un processo lineare allora ci sta che io mi immagino l'intervento alieno ma la teoria dell'evoluzione non è stata così dopodiché lasciatemi concludere con ultime due cose a me dispiace tanto mi dispiacciono due cose la prima è un po' questa che venga un po' venduta questa cosa che l'evoluzione sia fatta da dei grandi professoroni che dall'alto delle proprie cattedre si vendono e fanno delle cose e impongono un po' la loro visione purtroppo la scienza non funziona così no anzi per fortuna la scienza non funziona così io ho tantissimi amici giovani molti li conosco molti li ho anche portati sul canale che ogni giorno fanno ricerca sono giovani non sono professoroni e maneggiano la teoria dell'evoluzione la maneggiano e anzi loro praticamente fanno ricerca tutti i giorni dando per assunto di base alcuni degli assunti della teoria dell'evoluzione altrimenti i loro esperimenti non verrebbero vi faccio un esempio vi faccio un esempio concreto questo è il mio libro di teoria dell'evoluzione in cui ho studiato quando ho fatto il corso di teoria dell'evoluzione alla fine del libro come la maggior parte dei libri scientifici c'è l'indice di tutte le ricerche tutte queste ricerche sono tantissime questa è soltanto una piccola fetta di quelle che sono le ricerche fatte ogni anno dagli scienziati intorno al mondo sono fatte appunto da varie persone spesso giovani spesso giovani ricercatori che quello che fanno è beh vediamo mettiamo alla prova questa cosa mettiamo alla prova se è vero che il tale uccello si comporta così perché è più vantaggioso dal punto di vista evolutivo ecco tutto così se la teoria dell'evoluzione fosse un complotto se la teoria dell'evoluzione fosse stata inventata o ci fossero delle parti tenute nascoste per chissà quale motivo per esempio tenere nascosta l'esistenza degli alieni molti di questi esperimenti non verrebbero e questo vale per l'evoluzione degli animali ma vale tanto per l'evoluzione di noi Homo sapiens che fino adesso noi da quello che vediamo dall'analisi informatiche e bioinformatiche ci sembra assolutamente uguale a quella degli altri animali noi comunque riusciamo a creare degli alberi per capire esattamente dove stanno le parentesi degli altri animali e vi ripeto nella costruzione di questi alberi se ci fossero stati dei grossi eventi o dei piccoli eventi di modificazione per la trasformazione genetica noi lo vedremo lo vedremo proprio palesemente e questo non c'è noi non troviamo nulla di questa cosa e mi dispiace perché a me piacebbe tantissimo che esistessero gli alieni anzi io sono sicuro che gli alieni esistano magari è un po' più difficile che sono arrivati sulla terra magari è più difficile che sono arrivati sulla terra e ci abbiano modificato geneticamente questo è tutto quello che potevo dire io sulla questione ho provato a ricostruire tutto fatemi sapere cosa ne pensate lasciatemi fare una chiosa finale a me dispiace tanto che si sia creata questa cosa perché io so già che ci sarà una fetta di persone che mi insulteranno capita perché so che Biglino ha un grandissimo seguito e mi dispiace mi dispiace perché vi ripeto Queen Queen ok c'è una lista che è un infinitesimo di tutti i ricercatori in questo momento che stanno facendo ricerca scientifica di nuovo giovani sfigati anche io anche i miei amici fanno ricerca in quest'ambito e non vengono creduti quando in realtà poi viene magari creduto qualcuno che usando le argomentazioni in parte vecchie in parte forvianti convince in questo caso centinaia di mila di persone a delle ipotesi che purtroppo non hanno nessuna base scientifica che poi perché perché fare questa cosa per vendere più libri cioè se è così è triste per farsi invitare alle conferenze pagato cioè boh a me dispiace che esistano delle persone che facciano questa cosa qua capita succede è successo sta succedendo e io vi chiedo semplicemente di essere tanto buoni come io ho cercato semplicemente di spiegarvi quella che è in questo momento le spiegazioni principali legate alla tridivoruzione ma soprattutto se siete persone che hanno ampiamente creduto alle ipotesi di biglina e buffa biglina e buffa di dialogare parlatene scrivetelo nei commenti se avete ancora dei dubbi io potrei fare altri video in cui magari ne parlo in cui ne parliamo insieme nessun problema ma soprattutto vi chiedo appunto di guardare le informazioni che vi ho lasciato in descrizione e provare a fidarvi provare a capire più in modo più approfondito questo discorso qua perché purtroppo questo probabilmente se tutte le persone sono arrivate perché credevano in biglina e in buffa e siete arrivati in fondo a questo video avete capito che forse siete stati un po' presi un po' per i fondelli eventualmente da da quei due personaggi o da altre persone il che secondo me è una cosa molto brutta in caso posso anche eventualmente chiedervelo linkate questo video nei commenti al video di biglino vari che escono perché secondo me potrebbe essere utile a tantissime persone basta sono curioso a vedere quale sarà la relazione a questo video e noi ci vediamo appunto al prossimo video se decidete di seguirmi a questo canale ciao spero che questa cosa vi aiuti piuttosto che farvi incazzare perché secondo me è una cosa molto bella non è bello credere in cose non sensate perché è tempo perso è tempo perso invece che si può spendere a meravigliarsi della bellezza della teoria dell'evoluzione 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 umana e se avete voglia di sostituire proprio il fatto la bellezza di una possibile ipotesi di intervento alieno io vi consiglio davvero profondamente di dare un'occhiata a alcuni video che vi lascio in descrizione in cui parlo proprio dell'evoluzione umana come la conosciamo adesso dal punto di vista scientifico che non è assolutamente meno meravigliosa di un eventuale intervento alieno questo era tutto e noi ciao ci vediamo al prossimo video grazie a tutti Grazie a tutti.